siamo con ah non lo so che cazzo vuoi? scusate perché mi hai fermato? ah scusate no telecamera no 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 hai rotto il cazzo no no ma io stavo solo chiedendo il nome Roberto e allora e perché mi hai fermato davanti a telecamera? Roberto piacere noi stiamo facendo semplicemente un' intervista per capire un po' le persone ma lo sai che adesso ti chiedo la cosa non posso apparire? eh ma non c'è nessun problema Roberto se non vuoi apparire non ti facciamo apparire non ti preoccupare non lo so ma intanto che cazzo mi vuoi chiedere? allora niente parliamo di attualità Roberto temi caldi insomma ne parlano un po' tutte le televisioni vuoi farmi girare i coglioni che mi sono appena sciato con la donna? no per quello no ci mancherebbe anzi ci dispiace molto ci dispiace come si chiamava? sono cazzo i miei potevamo anche salutarla in questo momento no no non ti interessa Roberto? assolutamente no perdonami se ti ho dato del tu posso? dammi del tu perché te l'ho dato io mi son permesso io quindi però domanda che cazzo vuoi? ok Roberto iniziamo subito dunque parliamo di un argomento caldo ne parlano veramente tutti in questo periodo parliamo di terrapiattisti cos'è? scusami devo guardare lì ma cos'è la terrapiattista? e appunto dicevo sai cosa sono i terrapiattisti ad esempio? no sono dei meriti coglioni che non sanno come va la vita e c'è gente che è bellina si butta lì a fare delle cose che non sanno neanche dove girarsi è una cosa scusa vabbè non sono pratico quindi io mi incazzo i terrapiattisti ma che cazzo sono è niente bene bene siamo partiti bene devo dire che perfetto scusami perché poi io non ho tanto tempo è quindi no ci mancherebbe senta cosa ne pensa delle nuove generazioni le nuove leve e non sorriso le nuove leve sono dei ravatti nel senso per colpa nostra io ho 52 anni abbiamo allevato dei dei ravatti non sono bravi in politica non sono bravi da nessuna parte però sono divertenti ecco spieghiamo bene per i telespettatori chiedo scusa ecco diciamo i ravatti perché noi qua siamo a genova e si la definizione mi scusi e persone non in grado di andare avanti nella vita esatto per quale motivo secondo lei ma perché non gli abbiamo insegnato noi vecchi a vivere e sicuramente loro ci hanno messo del loro certo 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 e mi dica un po sa che molti politici al giorno d'oggi parlano di giovani e lavoro mi scusi no mi sta parlando di molti politici dicono che le nuove leve non hanno voglia di lavorare lei cosa ne pensa in merito e no al contrario sono sono al contrario da quello da quel lato lì perché secondo me hanno voglia di lavorare ma non ce l'hanno e poi li prendono per il culo perché è una cosa bellissima ti do questo ti do quando quando cioè io ti do un esempio parliamo del reti di cittadinanza che per me va bene è stata una cosa bella ma per gente che gli mancava a quel tot per arrivare o per almeno se non lavorava prendeva quel tot e aveva le ditte che lo chiamavano una merda è andata un po a finire così diciamo ma si è una merda adesso i ragazzi non è che non vogliono lavorare non hanno la predisposizione per il lavoro perché noi li coccoliamo e piccolino piccolino vieni ti do i 10 euro per andare a discoteca adesso sono 50 o 100 però e vai lì è una merda cosa ne pensa lei diciamo della della società di oggi cosa è una cosa che le dà fastidio particolarmente della società di oggi mi dà fastidio che noi pensiamo sempre che sia colpa degli altri e non colpa nostra è diventata una bufonata invece una cosa positiva e lascio perdere ci sarà quando e la dica la dica ma quando la finisce le stronzate non c'è una cosa positiva perché noi noi lasciamo perdere i politici lasciamo perdere noi genitori non o noi che andiamo a votare non facciamo una cosa di di giusto quindi bene allora dunque parliamo invece di argomenti caldi argomenti che sentiamo tutti i giorni alla televisione volevo volevo parlare di riscaldamento globale cosa ne pensa lei io spero che arrivi perché adesso con quello che costa il riscaldamento almeno riusciamo a tappare il buco che ci sono famiglie che non riescano a pagarsi il riscaldamento con il riscaldamento globale probabilmente stanno caldi è giusto quindi diciamo il riscaldamento lei lo aspettano bene non vedo l'ora e scusate perché sono di genere ma ma porca paletta è uguale non vedo l'ora che arrivi quindi in definitiva se dobbiamo insomma mettere diciamo proprio i puntini sulle i riscaldamento globale è una cosa positiva in questo momento sì perché per forza perché non abbiamo da pagarci il riscaldamento non dobbiamo pagare niente con il riscaldamento globale stiamo bene stiamo bene effettivamente ci sta e di conseguenza il cambiamento climatico cosa ne pensa è questo un pochettino mi disturba in che senso mi dico ma le spiego perché anche il riscaldamento globale non riesce a tappare il buco le spiego perché adesso siamo a novembre 14 13 e non c'è oggi un pochettino di freddo quindi anche si approfittano anche del riscaldamento globale per farti pagare caro gas e via dicendo ma effettivamente chi sono questi qua che se ne approfittano diciamo e chi sono e sono la casta lassù che lei e noi non vediamo che si approfittano per guadagnare perché paghiamo il gas di più la luce di più il pellet la legna addirittura perché cosa effettivamente va bene allora cambiamo 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 percorso e parliamo degli omosessuali cosa ne pensa o belli bellissimi perché io li adoro sono gli unici che hanno i soldi sono gli unici che hanno i soldi e per me sono belle persone quando diventano omosessuali non quando fanno gay pride perché non le piace no dimostrare la propria sessualità in una cosa così ma forse perché vogliono rivendicare i propri diritti oppure no i diritti si rivendicano in modo diverso non farti a farsi vedere con una più o col pavone ma stiamo scherzando no io amo c'è nel senso io rispetto tutti però di tutto va fatto a suo tempo quindi modo mi scusi quindi diciamo al pavone no no assolutamente assolutamente no pavone niente stiamo scherzando qualcosa che fa che fa tante luci e cosa ma stiamo scherzando bene invece parliamo dei dunque parliamo dei vegani cosa ne pensa dei vegani mi scusi mi è scappato da ridere a noi il vegano non lo capisco perché intanto ci vogliono allora nella nostra alimentazione ci vuole tutto carne verdure formaggi vi dice i vegani sono gente che scusate perché intanto poi li vedo tutti i mezzi ravatti che girano così scusate ravatti perché genovese gente non abbiamo già detto la definizione di ravatto gente che bellino non riesce a camminare non riesce a lavorare a non perché sta male perché è vegana perché ormai le nostre verdure sono quelle che sono perché non hanno più le nutrizioni di prima e comunque ti manca tutto io capisco mi scusi se l'interrompo capisco il come si chiama non il vegano l'altro il vegetariano comunque mangia uova mangia qualcosina ok e si tiene su però ragazzi ottimo perfetto dunque proseguiamo con sandro botticelli chi è sandro botticelli bellino fantastico fantastico quando ha fatto la legge per per la legge fornero era vicino lui no se non sbaglio non mi ricordo adesso perché lui ha fatto delle belle cose poi l'han tagliato purtroppo poi è andata a finire così si infatti l'han tagliato non lo meritava non lo meritava no assolutamente no perché ha messo una firma su una cosa che gli è andato contro lui sono andato e adesso è al comando purtroppo è andata così proseguiamo con steven king che belli a no scusa steven king mi innamoro di arma letale ha fatto quei quattro film fantastici poi è sparito però 45 non mi ricordo sono 45 di arma letale ma fantastici mi sono piaciuti perché l'ha fatti veramente bene scendendo i come sia gli attori giusti è bellissimo mi fa piacere che che la pensi così dunque proseguiamo con freddy mercury minchia freddy mercury io sono stato a lontra ho visto le sue i suoi quadri ragazzi fantastici io non mi intendo tanto d'arte ma a guardare i suoi quadri erano a 6 metterti anche uno sgabello sotto e rimanere lì un'ora perché proprio erano veramente belle fantastico veramente chi è fa vj ecco qua mi metti in difficoltà fa molto famoso e lo so ma io ho un periodo fa vj secondo me è quello che aveva aveva fatto su un quali riguri è tra l'altro aveva fatto un bel campo faceva fave sala e no sala me lo comprava e basilico ha creato un impero esatto ottimo fantastico anche lui di letta le otta di letta le otta ci sono cresciuto un po di letto le otta no non ci sono cresciuto però io l'ho vista e di conseguenza cosa ne pensi diciamo no ma senza perché è anche una bella ragazza giovane sempre col sorriso che poi non so se è un diciamo quasi quadrato che non vedi sempre col sorriso però bene 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 dunque continuiamo con martin luther king e no li non posso parlare male ragazzi ha salvato i neri e gli ha fatto sì che i bianchi avessero potere scusate perché quando è la fine andata così esatto l'hanno ammazzato e intanto i bianchi avevano più potere e comunque grande luther king perché intanto si trombava la segretaria qui dunque proseguiamo con albert einstein o belin qua è bellissimo qua è bellissimo perché io mi ricordo mi ricordo albert einstein felicissimo di smettere di lavorare bene quando ho visto la storia ho letto non so che so leggere quattro parole però quelle parole le ho messe insieme ragazzi albert einstein ha detto ma andate tutti a fare in culo bene bene molto bene dunque allora parliamo dunque facciamo chi è giorgia meloni allora tiri presente che io non sono di sinistra non sono solo un filo di destra la meloni è la meloni c'ha due tè della madonna però la meloni la meloni dovevo trovare un aspetta che non guarda un e te la che guardo quel paletto lì per dire la meloni tra altre cose ne imparano ma giornalmente giornalmente esatto ma io devo trovare la mia la meloni per me e la destra quello che ha preso la destra e se ne è presa e dunque direi che ci siamo le posso dire una cosa perché io devo andare disturbo no 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 vada vada tranquillo dunque mi dica roberto si però veloce ultima domanda scappiamo allora dimmi qua cosa faresti le tre cose che faresti se potessi diventare donna per 48 ore allora è una domanda perché io da uomo da donna farei cagare tutti i cazzi dalla mia ex moglie mi innamorerei della mia ex moglie per fargli roba di coglioni no ma scherzo vado d'accordo ma non è vero e mi piacerebbe conoscere proprio il punto g anche se sessualmente l'ho conosciuto in determinate donne non in tutto però ragazzi piglio carne che piovo diciamo come una bufera si 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 un alluvione un alluvione io sono nato oggi un alluvione quindi va bene cataclisma cataclisma io belli a me il senso è bellissimo quando stai con una persona a cui vuoi bene o comunque che sia belli e divertentissimo è magico altre cose che ti vengono in mente mi viene in mente allora mi fa la domanda di nuovo cosa faresti se diventassi donna per 48 ore due giorni bellissimo farai fare la pulizia tutto il mio uovo le pulizie lavare i piatti tanto non tra se non fai questo o non fai l'altro è bellissimo su questo ci gioco dove andiamo diamo lì te lo dico io se no stasera nisba bene d'accordo